Aveva un rapporto speciale con l'Aquila e l'Abruzzo, Papa Benedetto XVI, per questo la sua scomparsa ha colpito tutti. In città, il 28 aprile del 2009, depose il paglio sulla teca contenente le sacre spoglie dell'eremita del Morrone. In quella visita il Papa passò sotto la Porta Santa, eccezionalmente aperta per lui. Depose il suo paglio, riabilitando la figura di Celestino V, concetto che riaffermò nel 2010 nella visita a Sulmona, dove definì il rifiuto del frate grande coraggio. Papa Ratzinger non partecipò ai funerali di stato delle vittime del sisma, ma qualche giorno dopo Monsignor Molinari, allora vescovo dell'Aquila, fu chiamato dal Papa che voleva arrivare all'Aquila per manifestare la sua vicinanza e fu una visita ricca di significati, tre settimane dopo il sisma. La visita a Onna, quelle vesti bianche in mezzo alle macerie alla distruzione, con le parole di conforto verso chi aveva perso tutto, poche parole, il raccoglimento dinanzi alla casa dello studente, l'incontro nella cittadella della finanza con terremotate e volontari. Chi ricorda bene quei momenti è il giornalista del centro, Giustino Parisse. Noi eravamo scioccati, addolorati, increduli, quasi increduli a vedere un Papa che veniva in mezzo alle macerie e in mezzo al fango, tra l'altro mi ricordo. Poi si parlò molto il giorno dopo sui giornali delle scarpe sporche di fango di Papa Venezia XVI. Io in particolare ho un ricordo di un uomo timido che parlava poco, non disse praticamente quasi nulla. Quando il mio parroco presentò me e mia moglie a Benedetto XVI, lì praticamente fuori da Tendopoli, vedi un volto di stupore, come dire, oddio, ma è vero quello che mi sta dicendo. E questo era il Papa. E io, come dire, la mia tentazione era quella di chiedere a lui, santità, perché tutto questo? Però non dissi nulla, non gli chiesi nulla, lo ringraziai soltanto perché sapevo che in quel momento nemmeno lui poteva darmi risposte. Però questo è il mio ricordo personale, che poi nel tempo però, come dire, è maturato e quello per noi, credo anche per la città, quella presenza fu il primo segno che rinascere era possibile.